Benvenuti a tutti a questo Quick Webinar. Parleremo oggi dei permessi di Mailstore. Questo Quick Webinar nasce da una mia esperienza personale nel corso di un evento a ACAB fuori Milano, in una città del nord Italia. Mi trovavo in questo hotel e ad un certo punto per poter rispedire il materiale utilizzato durante l'evento in sede ad ACAB era necessaria una bolla d'accompagnamento che era stata spedita sia all'hotel ma a un indirizzo diverso da quello che la gentilissima receptionist poteva consultare. E questa signora mi ha detto, beh, mi spiace, io non ho la bolla d'accompagnamento, non posso spedire tutto il materiale avanzato. Amen. Milano. Ma questa cosa è potuta succedere perché, sebbene fossi fuori sede e in viaggio, avevo un mail store, un client mail store installato sul mio PC e perché avevo i permessi corretti di accesso alle mail archiviate. Quali sono questi permessi corretti? Se accediamo al client mail store, che io ho aperto qui, possiamo vedere che ogni utente, prendiamo adesso il mio, ha accesso non solo, può avere accesso non solo alla propria cartella personale ma anche ad altre. In questo modo posso vedere, nel mio caso, posso vedere non solo le mail inviate alla mia mail personale, bruno.inoldietacab.it, ma per esempio anche quelle inviate a supporto. In questo modo posso accedere anche a ticket, per esempio, di colleghi e dare supporto, recuperare informazioni che qualcuno ha inviato ai colleghi in modo veloce ed efficiente, però perché questa configurazione è stata fatta. Quando creo automaticamente un utente in mail store ha accesso solo alla sua mail personale. Come faccio a dare accesso, per esempio, a una mail come info o come supporto, in questo caso, che possono servirmi nelle mie attività lavorative? Beh, qui c'è un tasto aggiungi, scorro fino a trovare, per esempio, info e l'aggiungo. Scelgo ovviamente, in questo caso mi basta assolutamente l'accesso in sua lettura, ed ecco, aggiunta la mail, la trovate qua. Da questo momento in poi, quando farò delle query, delle ricerche in mail store, anche le mail contenute in info saranno, la ricerca verrà effettuata anche nelle mail contenute in info. In ACAB, in strumenti, utenti, privilegi, posso vedere una panoramica dei permessi assegnati a ciascun utente. Questa cosa serve per poter consultare le mail all'esterno, ma quanto è sicura questa consultazione? Vuol dire, se io adesso ero in viaggio e mi trovavo con la rete dell'hotel, io posso garantire per la sicurezza della mia rete, ma quanto posso garantire per la sicurezza della rete di un hotel? Forse qualcosa di più, ma sicuramente posso garantire pochissimo per quanto riguarda la sicurezza della rete di un albergo, perdone, della rete di un aeroporto o di una stazione o di una rete pubblica, come può essere, per esempio, la rete civica di una città. Non sempre, non in tutti i paesi possono utilizzare le VPN, ed è sempre una VPN configurata sulla mia macchina. E' proprio per questo motivo che dalla versione 12 di Mailstore sono state aggiunte alcune caratteristiche che rendono più sicura la consultazione delle mail al di fuori del mio posto di lavoro. Se andiamo in, non nel client Mailstore, ma nella configurazione del servizio di Mailstore Server, quindi accediamo alla macchina, notiamo come nei network settings sia abilitato di default l'accesso tramite il plugin di Outlook e tramite il browser, quindi l'accesso web, in HTTPS. Adesso è ancora possibile superare questo default e utilizzare l'HTTP normale, così. Ben presto, questa possibilità sarà eliminata e sarà possibile consultare le mail di Mailstore solo tramite una connessione criptata e sicura, proprio per favorire il lavoro in mobilità degli utenti. Qual è l'utente che ha accesso a tutte le mail di tutti quanti di Mailstore? Beh, di solito è l'amministratore. Di default l'admin, cioè la persona che è il sistemista di solito che gestisce le interazioni di Mailstore, ha la possibilità di vedere le mail di tutti ed è una cosa che può essere utile ed è qualcosa che può essere assolutamente utile, ma non è assolutamente compliant per quanto riguarda la privacy e il GDPR moderne. è per questo che in conformità generale trovate, in strumenti di amministrazione, utenti, strumenti di amministrazione, conformità, conformità generale, trovate tutta una serie di impostazioni che permettono non solo di bloccare l'accesso al sistemista, alle mail di tutti quanti, ma anche di attivare delle funzioni di conservazione a fini giudiziari, quella che è in exchange, perché a parte di questo prodotto si chiama litigation hold, che impedisce completamente la cancellazione della mail. e potete configurare dei criteri di conservazione personalizzati che possono permettere la protezione o anche la cancellazione automatica dei messaggi, vedendo questa spunta, sulla base delle caratteristiche di un messaggio o anche della data dalla quale è stato inviato. Se quindi siete in viaggio per lavoro e vi dicono, mi spiace, la prenotazione non ci è giunta, non posso darle la stanza, non posso spedirle il materiale, qui non risulta il suo nome nell'elenco, beh, avete tramite Mestor e tramite interfaccia web sicura di Mestor un'ottima possibilità di riuscire ad accedere ai servizi che avete prenotato nonostante l'inefficienza o gli errori di qualcun altro. Ci tenevo a raccontarvi questa vicenda e a raccontarvi come Mestor mi ha letteralmente salvato in questa situazione. Se voi volete farmi delle domande, sono a vostra disposizione. Bene, vedo Marco che mi chiede se gli utenti possono avere degli accessi divisi, non solo per cartella di posta, ma per sottocartelle, ossia se io posso dare accesso, per esempio, credo di aver interpretato così la domanda, credo di aver metto correttamente la domanda in questo senso, se è possibile per un utente aver accesso a una parte della cartella, voglio dire dare accesso a un collega non a tutta la mia cartella ma solo a una parte. Concretamente non alla inbox ma anche alla sola cartella inbox clienti. Ecco, questo non è possibile. Le cartelle di Mestor vengono, per me sono a livello di utente, quindi non a livello di sottocartella IMAP, per intenderci, archiviata da Mestor. Vediamo se ci sono altre domande. Non mi sembra. Beh, se vi venissero in mente più tardi le domande, sono a vostra disposizione. Vedete il mio indirizzo di mail qui a video. O potete scrivermi anche se non a questo indirizzo, ma direttamente a supporto.acab.it Grazie mille e a presto. 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 Grazie mille e a presto.